Salve, benvenuti alla sesta lezione del corso di probabilità e statistica. La lezione di oggi è intitolata varianza e covarianza. L'altra volta abbiamo visto il concetto di previsione, adesso vedremo che cos'è il concetto di varianza, varianza di un numeratorio appunto. Poi vedremo le proprietà elementari non solo della varianza ma anche della previsione che abbiamo visto l'altra volta, dovremmo riesaminarla. Oggi parleremo anche di previsione in realtà, non solo di varianza. Poi vedremo il concetto di covarianza e di coefficiente di correlazione e poi vedremo un'applicazione del concetto di previsione al problema dei collegamenti che esistono fra probabilità e frequenza. Farò più chiaro più tardi cosa voglio dire dicendo collegamenti fra probabilità e frequenza. Allora cominciamo a vedere qualcosa ancora sulla previsione che abbiamo discusso l'ultima volta. Ricordate che parlavamo di numero alatorio, semplice, discreto ma con un numero finito di valori possibili, cioè senza avere qui una serie infinita di numerabile. E rappresentiamo così un numero alatorio e abbiamo definito l'altra volta la previsione di x. Ora in realtà si può definire un po' più in generale considerando una funzione reale definita sul codominio di x. x è un numero alatorio, sapete che c'è un dominio e un codominio. Il dominio è fatto da un insieme di eventi, cioè da questi indicatori che possono assumere valori 1 o 0, come sappiamo, in tutti i modi possibili, dando luogo quindi a un'espressione di x che è la somma di alcuni, eventualmente nessuno o di tutti i coefficienti x con i. E su questo codominio, cioè su questi valori possibili fatti in questo modo, possiamo definire una funzione reale, phi. E allora quello che si ottiene, y, phi di x, è a sua volta un numero alatorio, anche questo è un numero alatorio, perché in corrispondenza ai valori di verità 1 o 0 di questi indicatori di eventi avremo dei valori anziché ottenuti tramite le x, ottenuti tramite, diciamo così, le phi di x, nel senso che in corrispondenza ai valori x avremo le immagini phi di x, quindi anche y nel numero alatorio, allora più in generale si può definire non la previsione di x, come abbiamo fatto l'altra volta, ma la previsione di phi di x. Vedete che l'espressione è esattamente la stessa, la stessa si fa per dire nel senso che è tutta analoga a quella dell'altra volta, noi abbiamo le probabilità, p1, p2, pn, moltiplicate anziché per x1, x2, x con n per phi di x1, phi di x2, phi di x con n. In altre parole, il concetto di previsione che abbiamo visto l'altra volta può riguardarsi come un caso particolare di questo quando la funzione phi è la cosiddetta funzione identica. Se phi è la funzione identica vuol dire che phi di x è uguale ad x e quindi riotteniamo il concetto precedente. È più comodo averlo più generale perché vedremo oggi stesso che per definire appunto la varianza, quello che è il titolo della lezione di oggi, avremo bisogno di fare la previsione di un'opportuna funzione di x e quindi vedremo quale sarà la phi che scegliamo per definire la varianza. Le p con i, come al solito, sono le probabilità degli e con i. Un'altra cosa importante per la definizione che dobbiamo vedere oggi, quella di varianza, è che dovremo lavorare con numeri relatori in forma canonica. Ricordate che l'altra volta abbiamo definito numeratori in forma canonica quando gli eventi e con i di questa rappresentazione, questa rappresentazione qui, sono una partizione, cioè uno e uno solo di essi è vero. Ora, quello che è importante osservare è che se abbiamo un numero relatorio non in forma canonica, cioè nel caso in cui gli e con i non sono una partizione di omega, è sempre possibile ricondurla a forma canonica. Cioè, come si fa? E basta ricorrere ai costituenti. Noi prendiamo, ricordate due lezioni fa abbiamo parlato dei costituenti, noi prendiamo i costituenti ck relativi agli eventi e con i. Questi non saranno in generale una partizione, quindi saranno per così dire accavallati, in maniera intuitiva. Allora noi andiamo a costruire, come ricorderete, i costituenti. Consideriamo questi costituenti e consideriamo il numero relatorio ottenuto in questo modo. x uguale. Al posto degli eventi ci mettiamo i costituenti c1, c2, cs. Ricordate che n eventi danno luogo a s costituenti dove s è un numero minore uguale di 2 alla n, quando i costituenti ci sono tutti, per così dire, quando nessuno di essi è impossibile. E i coefficienti come saranno? Saranno ottenuti in maniera evidente dagli x con i sommando tutte le x con i corrispondenti a quegli e con i tali che ck è contenuto nei con i. Ricordate la rappresentazione che ogni evento della famiglia data si può sempre rappresentare come unione dei costituenti, diciamo così, che lo costituiscono e quindi basta sommare le x con i corrispondenti a quei costituenti contenuti nei con i e ogni numero relatorio come questo, cioè che non è canonico, si può scrivere in forma canonica. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che se da ora in poi come farò, salvo avviso contrario, considererò sempre numeri relatori in forma canonica, cioè ripeto, tali che solo uno degli eventi che figurano nella rappresentazione è vero, uno e uno solo, cioè tali che i valori possibili sono proprio soltanto i coefficienti, non somme di coefficienti, ma soltanto loro. Se farò così come farò, non farò una ipotesi restrittiva, perché qualora il numero non fosse in forma canonica lo si può sempre ricondurre mediante questa operazione tramite i costituenti. Allora adesso vediamo di definire il concetto di varianza. Abbiamo già definito il concetto di previsione l'altra volta, quindi diamo un nome alla previsione per non scrivere ogni volta p di x, stabiliamo di chiamare m maiuscolo la previsione di un numero relatorio. Adesso definiamo la varianza di un numero relatorio, questa espressione qui, prendiamo, il numero relatorio è sempre rappresentato nella forma x con 1, indicatore di con 1, più eccetera, x con n, indicatore di con n, dove sono una partizione negli e con i. Allora noi al posto degli indicatori mettiamo ancora una volta le probabilità p1, p2, pn e dove ci sono i coefficienti mettiamo i coefficienti meno m al quadrato. Vedete l'espressione se ci riflettete un attimo appare chiaro che cosa vuole rappresentare. Vedete che abbiamo una sorta di previsione di un numero relatorio che non è x, ma è x meno m, al variare dei valori x, cioè x meno la previsione, cioè gli scarti dalla previsione potremmo chiamarli. Questo oggetto, la varianza di x, a questo oggetto associamo la sua radice quadrata, adesso tornerò fra poco su questa interpretazione di questa definizione, per ora una notazione, quindi dicevo la radice della varianza lo chiamiamo scarto quadratico medio oppure scarto standard, questa è una terminologia e questo è un modo di chiamarlo. Vedete che se voi prendete, poco fa cosa abbiamo visto? Che si può parlare di una funzione fi di x definita sul codominio di x. Adesso la funzione fi di x è questa semplice funzione, prendiamo x e gli sottraiamo m, cioè la sua previsione, e facciamo il quadrato. Dopodiché vedete che questa espressione si può scrivere, andando a specificare i vari valori di x, x1 meno m al quadrato, indicatore di e con 1, x con 2, eccetera, eccetera, fino ad x con n meno m al quadrato e con n. Cioè questo è un nuovo numero relatorio in cui gli eventi, se il primo numero relatorio era quello solido, nella solita rappresentazione, cioè x uguale x con 1 è indicatore di e con 1, x con 2 è indicatore di e con 2, eccetera, x con n è indicatore di e con n, abbiamo lasciato gli indicatori e con 1 e con n e al posto dell'x1 e x con n abbiamo messo invece gli scarti da m, cioè dalla previsione, al quadrato. Quindi di fatto la varianza di x non è altro che la previsione, e anche lei è una previsione, ma è la previsione non di x, ma di y, dove y è x meno m al quadrato, cioè possiamo dire la previsione degli scarti al quadrato. Vediamo perché si introduce questo concetto, vediamo un po' di avere adesso una visione intuitiva. Quando voi considerate il concetto di previsione, se voi ricordate l'espressione appunto p con 1 per x con 1 più p con 2 per x con 2 più p con n e x con n, chi ricorda qualche cosa di meccanica si ricorderà che questa espressione assomiglia sfacciatamente all'espressione che dà l'ascissa del baricentro di masse situate nei punti x1, x2 e x con n di pesi appunto masse rispettivi più 1 più 2 p n. Quindi in una immagine della probabilità come una massa, noi abbiamo una specie di massa distribuita sui numeri x1 e x con n, questa massa è la probabilità, il concetto di previsione è l'analogo del concetto di baricentro di questa massa. Allora la previsione ha lo scopo di dare un'idea riassuntiva del numeratorio, il numeratorio essendo un numero appuntaleatorio assume tanti valori possibili, abbiamo visto che si chiama anche valore medio, quindi in certo senso è quella che si chiama una media, una sintesi dei valori possibili di x mediante un solo numero. Ora questa visione evidentemente è molto riduttiva, sarebbe folle pensare ogni volta che si deve considerare un numeratorio e dire guardiamo la previsione facciamo prima, prendiamo un numero che lo sintetizza, sarebbe come dire dato un evento non mi interessa sapere quando è vero e quando è falso, datemi la probabilità e lo sintetizzo con la probabilità. Questo può essere utile ma può anche essere fuorviante perché se ti dico la probabilità è un mezzo e che ci faccio? Un mezzo può essere testa e croce, può essere la prossima targa della macchina che passa e pari o dispari, può essere lanciando un dato viene un numero pari, non è che dando la sintesi probabilistica possiamo ritornare indietro all'evento, cioè in altri termini la freccia va solo in un senso, dato un evento potete costruirvi in base alle informazioni che avete la sua probabilità, ma se vi do la probabilità non è che potete tornare indietro e dire qual era l'evento che aveva questa probabilità, ce ne sono infiniti eventi che hanno la stessa probabilità e un po' le stesse cose accade per la previsione, se io vi do un numero relatorio e voi lo sintetizzate con la previsione, fate appunto una sintesi, dalla previsione non potete risalire all'evento è un po' come prendendo quel caso particolare di previsione come abbiamo visto l'altra volta che è la media aritmetica, se voi avete una malattia per esempio che colpisce mediamente soltanto persone deboli, quindi per esempio bambini di 2 anni o anziani di 90 anni, questa malattia colpisce gente di 2 anni e di 90, beh facciamo la media aritmetica, 90 più 2, 92, 46, avrebbe senso dire che in media la malattia colpisce persone di 46 anni, evidentemente no, perché questa media appunto è una grossa perdita di informazione, cioè dire che la previsione di questo numero relatorio che assume il valore 2 età o il valore 90 con probabilità un mezzo, un mezzo, supponiamo di avere un gruppo di bambini e di anziani in parti uguali di 2 anni, di 90 anni, possiamo dire che un numero relatorio con probabilità un mezzo, un mezzo assume il valore 2 e il valore 90, nessuno bisognerebbe di dire che la sintesi previsione, cioè valore medio 46, esprima in maniera convincente il fenomeno malattia, questo tipo di malattia che colpisce le persone deboli, cioè piccoli bambini di 2 anni o anziani di 90, la sintesi 46 è completamente fuorviante. Allora la varianza ha lo scopo di affiancare alla previsione un altro indice che mi dice, per così dire, come sono dispersi i valori di X rispetto alla previsione. Se pensate all'immagine meccanica, come sono disperse le masse rispetto al baricentro? Voi potete avere lo stesso baricentro, ma masse che possono essere più o meno vicine al baricentro, più o meno sparpagliate. Se voi ci volete, come si dice, cogliere, nel senso che io dico la previsione e spero di indovinare abbastanza quanti sono, di quanto mi allontano dai valori possibili del numero relatorio. È chiaro che più le masse sono, cioè più i valori possibili di X con le rispettive probabilità sono vicine alla previsione, più la previsione è una buona indicazione del valore che ha assunto o che assumerà X. Più le masse sono sparpagliate e meno, come si dice a Roma, ceco io se cerco di sintetizzare il numero relatorio con la previsione. Prendete l'esempio della malattia, qui abbiamo i bambini di due anni, qui i vecchi di 90 anni, 46 anni è la previsione, il numero medio, se dico, beh, diciamo 46, fallisco completamente, non è vero che la malattia colpisce prevalentemente ha 46 anni, quella è proprio una sintesi non efficace del fenomeno. Allora la varianza, come dicevo, tornando al nostro slide qui, ha proprio lo scopo di dare una misura della dispersione. In altri termini, più la varianza è piccola, piccola è un concetto molto relativo, non è che voglia dire molto, ma adesso prendiamola per un attimo in senso intuitivo o relativo rispetto a un'altra varianza più grande. Più la varianza è piccola, più vuol dire che i valori di X, i valori cioè X1, X2, X1 di X, più è piccola, più sono vicini al suo valore medio. In altri termini, se torna ad esempio della malattia 46 anni, che è il valore medio di 2,90, quel 46 poteva anche venire da una malattia che colpiva persone di 44 e di 48 anni. La media sempre 46 era, però in questo caso la varianza è molto più piccola, perché è un 46 che è la sintesi di 44 e 48. Una cosa invece di dire 46 che è la sintesi di 2 e 90. Vedete che la varianza cerca di ovviare a queste, come dire, cantonate che si possono prendere cercando di interpretare, come si dice anche nel linguaggio comune, in media le cose vanno così. State attenti che la parola in media è molto pericolosa. Allora la varianza ha questo scopo. Quindi ripeto, più la varianza è grande, più le masse sono disperse, quindi maggiore incertezza, se vogliamo usare la parola chiave che abbiamo usato spesso fin dalla prima lezione, più la varianza è piccola, più c'è minore incertezza. Capite? Se le masse sono, le masse, faccio sempre l'immagine meccanica della probabilità, se gli eventi, i valori possibili con le rispettive probabilità sono tutti abbastanza vicini alla previsione, c'è meno incertezza. Se i valori possibili con gli rispettivi pesi, cioè con le probabilità, sono molto diffusi, c'è maggiore incertezza. Quindi questo dobbiamo ricordarcelo perché nel futuro ce lo troveremo sempre questo concetto. Varianza grande, dispersione, incertezza massima, varianza piccola, incertezza minima, incertezza minore. Allora, nel caso particolare di un evento, cioè dell'indicatore, possiamo calcolare la varianza e si vede facilmente che la varianza viene PQ. Vogliamo vederlo insieme? Perché la varianza dell'indicatore di un evento è uguale a PQ? Allora dobbiamo verificare che la varianza dell'indicatore di E è uguale a PQ. Naturalmente bisogna dire chi è P e chi è Q. Si tratta di un indicatore di un evento, quindi con P indichiamo la probabilità dell'evento di cui stiamo parlando. Quindi P di E è uguale a P e con cui indichiamo la probabilità dell'evento contrario? Probabilità di E contrario, che come sappiamo è uguale a 1 meno P, perché la somma delle due probabilità deve fare 1. Allora, per calcolare la varianza, come sappiamo dobbiamo fare, varianza dell'indicatore di E, dobbiamo fare la previsione del numero correlatorio, che in questo caso è indicatore di E, meno la sua previsione che abbiamo appena scritto sopra è P, al quadrato. Allora questo quanto fa? I valori possibili. L'indicatore di E vale o 1 o 0, no? Allora 1 meno P al quadrato vale 1 con probabilità P, quando l'evento è vero, più, l'altro olore possibile per l'indicatore di E è 0, quindi 0 meno P sempre al quadrato, ma vale 0 e il caso contrario, quindi con probabilità 1 meno P, quindi 1 meno P. Allora, se noi sviluppiamo questo semplice calcolo, qui potete mettere in evidenza, questo qui, mettete in evidenza P per 1 meno P, vedete facilmente, P per 1 meno P, cosa rimane? moltiplichiamo per 1 meno P, questo che rimane qua. Qui rimane in evidenza, avendo messo in evidenza P per 1 meno P, qui c'era P quadro, rimane P, quindi qua meno P più P, 1 e rimane P1 meno P, cioè rimane appunto PQ. Quindi abbiamo verificato che la varianza dell'indicatore di un evento, di questo particolarissimo numero relatorio, è uguale al prodotto della probabilità dell'evento per la probabilità dell'evento contrario, cioè per 1 meno P. Ripeto, PQ, cioè P per 1 meno P. Si tratta ora di vedere un'interpretazione di questo fatto. Ora torniamo sulla nostra slide e lì possiamo discutere un momento un po' più a fondo questo risultato. In un certo senso ritorna il concetto che varianza grande vuol dire massima incertezza, varianza piccola grande o grande incertezza più che massima, varianza piccola piccola incertezza, perché quando è che siete maggiormente incerti su un evento? È chiaro che il caso di maggiore incertezza è quando la probabilità è un mezzo, siete esattamente a metà. Se un evento ha probabilità molto grande, siete meno incerti perché vi aspettate, ricordate che la probabilità è una misura del grado di fiducia nel verificarsi, quindi se P è grande, la vostra fiducia nel verificarsi è molto grande, siete meno incerti, come pure siete poco incerti se P è piccolo, perché vi aspettate poco che si verifica. Siete completamente nel pallone quando P è un mezzo, un mezzo siete completamente incerti. Allora dovrebbe essere massima la varianza in questo caso, perché massima incertezza. E infatti il prodotto PQ quando è che è massimo? Ricordate che Q è uguale a 1 meno P, quando è che 1 meno P è massimo? Non vi offendo come studenti che avete già fatto matematica 1, matematica 2 e matematica 3, capite subito e verificate subito che il massimo si ottiene appunto per P uguale un mezzo. Quindi la varianza è massima quando la probabilità è un mezzo, quindi corrisponde dal fatto che c'è la massima incertezza. Adesso vediamo alcune proprietà elementari di previsione e varianza. Questa è una parte un po' noiosa, perché dovremmo elencare un po' di formule, alcune le dimostro perché c'è qualcosa che sfugge, alcune sono proprio immediate e ve le fate per esercizio e se avete dubbi andate sempre sul sito internet e trovate le spiegazioni che vi servono. Vediamo delle cose proprio elementari insieme. Intanto una prima osservazione, anche una costante, si può pensare a un numero relatorio. Se io ho un numero alfa, un numero reale, è un numero relatorio. È un po' come anche l'evento certo o l'evento impossibile dualmente è un evento. Quello in realtà non sarebbe un evento perché non è che può essere vero o falso. L'evento certo è sempre vero, quindi è un caso limite. L'evento impossibile è sempre falso, è un caso limite. Però è comodo considerarlo perché nel quadro degli eventi avere anche i due casi limiti impossibili e certo aiuta a impostare le cose in maniera corretta per comprendere i casi limiti. Allora anche nei numeratori conviene avere il caso limite del numero che non è aleatorio e anche lui certo, nel senso che è una costante. Vedete che si può far rientrare nel numero aleatorio, nell'espressione, perché basta scriverlo alfa indicatore di omega. Omega è l'evento certo, l'indicatore quindi vale 1, non vale 1, 0. Quindi scrivere alfa indicatore di omega vuol dire scrivere alfa. Però perché lo scrivo così? Perché così potete capire che di fatto si può interpretare una costante come un numero aleatorio, perché per dare un numero aleatorio cosa bisogna fare? Dovete dare n eventi, n numeri reali e dovete combinarli insieme. Ricordate la sola espressione, e con 1 e con 2 e con n, x con 1 e x con 2 e x con n. Prendete x con 1 e lo moltiplicate per l'indicatore di e con 1, eccetera. Prendete x con n e lo moltiplicate per l'indicatore di e con n. In questa visione è chiaro che anche una costante è un numero aleatorio, perché voi prendete n uguale 1, datemi n 20, te ne do 1. Qual è questo evento? Omega ti do, l'evento omega. Datemi n numeri reali, te ne do 1, ti do alfa, combina l'insieme, alfa è indicatore di omega, alfa è indicatore di omega, fa alfa. Ecco quindi dimostrato che una costante alfa è un particolarissimo numero aleatorio. Ovviamente se applicate a questo la definizione di previsione vi viene subito anche qui banalmente come c'era da aspettarsi che la previsione di una costante è la costante stessa. La previsione, questa sintesi del numero aleatorio, che è la previsione, pensata all'immagine meccanica, il baricentro di un insieme di masse, ma se la massa è una sola, alfa è costante, il baricentro coincide con la stessa massa. Quindi la previsione di una costante è la costante stessa. Questa è un'osservazione banale, ma la devo fare perché ci servirà fra poco in qualche calcolo, ci ritroveremo anche delle costanti del quale dobbiamo fare la previsione e dovremo avere ben presente che la previsione di una costante è la costante stessa. Adesso, prima di tutto, fra le proprietà elementari della varianza vediamo un altro modo di scriverla. Noi abbiamo visto per definizione questa che sto stuzzicando con il mouse, vedete che la varianza come definizione era in sostanza la previsione dello scarto al quadrato, no? Vedete, previsione di x meno m al quadrato. Voglio dimostrare con queste due righe che la varianza si può anche scrivere in questo modo qui sotto, cioè previsione del quadrato meno quadrato della previsione. È elementare, basta che sviluppate questo quadrato. Allora, qui abbiamo x meno m al quadrato, quindi x quadro più m quadro meno 2mx, no? Il famoso quadrato non binomio. Siccome la previsione è additiva, ricordate che abbiamo visto l'altra volta che la previsione della somma di n numeri relatori è la somma delle previsioni, dobbiamo fare la previsione di questi tre termini. Allora, previsione di x quadro, chiusa la parentesi, più previsione di m quadro, ma m quadro è una costante perché la previsione è già calcolata di x, cioè è come un alfa, quindi la previsione di m quadro che è una costante fa m quadro stesso. Poi ricorderete pure che previsione di alfa x, alfa viene in evidenza, viene fuori della previsione. Quindi qui abbiamo previsione di meno 2mx, applicando sempre l'additività, no? Meno 2m è una costante che viene fuori, eccola qua, e rimane previsione di x. Allora, ma previsione di x è il simbolo che abbiamo adottato, o meglio m è il simbolo che abbiamo adottato per indicare previsione di x, quindi qui di fatto che c'è scritto, dove c'è scritto meno 2m per p di x, c'è scritto meno 2m per m, cioè c'è scritto meno 2m quadro. Allora m quadro meno 2m quadro fa meno m quadro. Richiamate m p di x e vedete che qui avete appunto previsione di x al quadrato meno previsione di x al quadrato. Insomma, questa è una formula molto mnemonica perché dovete fare la previsione di x al quadrato meno la previsione di x al quadrato. Attenzione alle pause perché se lo leggete in un altro modo non si capisce niente, perché se voi dite la previsione di x al quadrato meno la previsione di x al quadrato, sembra che dico la stessa cosa. Dovete fare le pause in maniera saggia. La previsione di x al quadrato meno la previsione di x al quadrato. Allora così nessuno può equivocare e questa espressione è molto comoda e vedremo nel seguito che per calcolare la varianza spesso converrà a usare questa e non la definizione originaria, anche se sono equivalenti come abbiamo appena visto. Ancora su proprietà elementari. Cosa si ottiene quando faccio la previsione di c più x? Si ottiene c più p di x. Questo non lo dimostro perché sono intuitivo, comunque se volete fare il conticino vi assicuro che non presenta alcuna difficoltà. Vogliamo vedere un'interpretazione intuitiva? Dire che invece di x considero c più x vuol dire che noi abbiamo i nostri valori di x con gli ispettivi pesi che sono le probabilità. Pensate che ogni valore c'ha sopra una palletta che rappresenta la probabilità. Più è probabile più è pesante. Voi dicendo c più x vuol dire che questi valori li prendete e li traslate tutti di c. E allora la previsione, cioè il baricentro di queste masse, che cosa fa? Si trasla anche lui della stessa quantità. Quindi vedete che è del tutto intuitivo che se io traslo di una quantità c tutti i valori di x con i rispettivi pesi, cioè con i rispettivi probabilità, ottengo che la previsione viene traslata della stessa quantità. Come se poi prendeste, insisto, le masse le spostate tutte e il baricentro gli va dietro. Ma ripeto, il conto non presenta alcuna difficoltà. Se invece abbiamo una costante moltiplicativa per la previsione, l'avevamo già visto l'altra volta, che la previsione di alfa x era alfa previsione di x, invece nella varianza non è così semplice, viene fuori il quadrato perché c'è una quantità quadratica. Anche questo vi giuro che non presenta alcuna difficoltà, che non vi fa male se vi provate a verificarlo da soli, la varianza di c di x quando avete una costante moltiplicativa nella varianza, in evidenza, per così dire, non viene la costante stessa ma viene il suo quadrato. Invece è grazioso quello che avviene per la costante additiva, è inefficace. Cioè se voi fate la varianza di c più x, questo è uguale alla varianza di x. Anche questo si verifica facilmente in maniera formale, ma anche qui se volete la lettura intuitiva sempre in termini di masse. Siccome la varianza è una misura della dispersione, come abbiamo visto, la varianza ci dice di quanto questi valori di x sono più o meno addensati o vicini rispetto alla previsione. Ora se voi questo gruppo di valori di x che sono intorno alla previsione li prendete e li spostate di c, ma la varianza non cambia perché la loro dispersione è la stessa. Li prendete come stanno e li spostate. Mentre la previsione si sposta, la varianza no perché la varianza è una misura della dispersione. Se questi erano affollati, li spostate tutti di c, affollati rimangono. Se erano dispersi, li spostate di c, dispersi rimangono allo stesso modo. Quindi è intuitivo che sia votato la spiegazione per il popolo, quella banale, ma ovviamente se fate la spiegazione formale facendo i conti non sono affatto difficili, però è bene anche che abbiate presente l'idea intuitiva che una traslazione non ha alcun effetto sulla varianza, mentre invece ha un effetto sulla previsione, come vedete qua sopra. Sempre continuando nelle proprietà elementari di previsione e varianza, vediamo cos'è un numero relatorio standardizzato. Conviene spesso avere numeri relatori che abbiano come valore medio o previsione 0 e come varianza 1. Questo si può sempre ottenere. Poi avete un numeratorio y, avete un numeratorio x, scusate, volete averne uno standardizzato, cioè con previsione 0 e varianza 1. Non dovete fare altro che prendere il vostro x, sottrargli m, cioè la sua previsione, e dividere per il suo scarto standard, cioè per sigma, cioè la radice della varianza. Bene, applicando queste proprietà elementari, anche questo di facile verifica che il nuovo numero così ottenuto, che si chiama appunto standardizzato, ha previsione 0 e varianza 1. Quindi la previsione 0 è evidente, se voi gli levate lo scarto, gli levate m, è chiaro che la previsione meno 0 per l'additività e poi anche in base a questa proprietà qui è facile verificare che la varianza viene 1. Adesso vediamo un concetto nuovo. Fino adesso abbiamo parlato di previsione e di varianza, cioè riferite a un singolo numero relatorio. Abbiamo la previsione di x, la varianza di x, cioè erano operazioni, come dire, sullo stesso numero relatorio. Adesso mettiamo in campo due numeri relatori e vediamo un concetto che li coinvolge entrambi, cioè quello di covarianza. Prima vediamo la definizione formale. Si dice covarianza di due numeri relatori x ed y questa espressione. Perché? E ora vedremo fra un po'. Prendetela così come definizione formale. Si prende la previsione del prodotto. Ma che cos'è il prodotto di numeri relatori? Ma i numeratori per adesso li abbiamo definiti in quel modo, come combinazione lineare di quelle espressioni. Basta che voi fate le moltiplicazioni termine a termine di tutti i termini, come nell'algebra elementare, e ottenete facilmente cos'è il prodotto di due numeri relatori. Sarà un'espressione un po' più lunga, con tutti i prodotti possibili dei coefficienti, i prodotti degli indicatori, che sarà a sua volta rappresentabile come un indicatore dell'intersezione. Quindi non presenta alcuna difficoltà. Basta avere la pazienza di mettersi giù a scrivere x per y. x lo rappresentate come somma, x1, indicatore di E1, più eccetera, x con n, indicatore di E con n, y lo rappresentate, y1, A con 1, più eccetera, yk, indicatore di A con k. Fate le moltiplicazioni come due polinomi, come si faceva a scuola per due polinomi, ottenete un'espressione lunga quanto volete, ma comunque ancora un numero relatorio di un certo tipo. Quindi ha senso parlare di previsione del prodotto. Previsione del prodotto meno il prodotto delle previsioni. Questa è la definizione. Ora il significato lo vedremo fra un attimo. In particolare però potete subito osservare che solo applicate alla coppia xx, ritrovate il concetto di varianza. È evidente, no? Se voi prendete y uguale x, qui verrà previsione di x quadro meno previsione di x per previsione di x, cioè meno previsione di x al quadrato. Esattamente quella che avevo fatto vedere prima, quella con le pause diverse, no? La previsione di x al quadrato meno la previsione di x al quadrato. Quindi mettendo y uguale x si ritrova la varianza, cioè la covarianza generalizza a due numeri relatori il concetto di varianza che valeva per un solo numero relatorio. Quello che invece voglio farvi osservare è che la covarianza, oltre che in questo modo, si può scrivere anche in quest'altro modo qua. Questo modo qua ha il vantaggio di avere una possibilità di un'interpretazione intuitiva. Vedete che è la previsione del prodotto degli scarti. Si può leggere così, no? Chiamiamo x meno p di x, lo scarto di x dal suo valore medio, la sua previsione. Y meno p di y, l'analogo scarto per la y, il prodotto. Quindi abbiamo la previsione del prodotto degli scarti. Ora viene una lettura molto interessante in questo senso, che fa capire il concetto di covarianza dal punto di vista intuitivo. La dimostrazione non è difficile. Voi prendete questa espressione, sviluppate questo prodotto, applicate l'attività della previsione. Vi giuro che in meno di due o tre righe vi viene questa espressione iniziale. Vi rimando al libro, mi pare inutile stare qui adesso a farvi vedere i passaggetti, è molto meglio che cerco di darvi le idee intuitive. Vi rimando al libro per questi passaggi, in cui si dimostra che questa è un'espressione equivalente alla covarianza. Trovate anche degli interessanti esempi, questi li trovate anche sul sito internet, di interpretazione di cosa vuol dire covarianza positiva, covarianza negativa e covarianza zero. Perché in effetti la covarianza è una misura dell'associazione dei valori di x ed y in un senso opportuno. E vediamo adesso un ruolo importante che gioca il concetto di covarianza per studiare l'additività o meno della varianza. O meno perché in realtà non è additiva la varianza. Come vedete, contrariamente a quello che sappiamo per la previsione, la previsione della somma di numeri relatori, ricorderete, è la somma delle previsioni. Per la varianza vediamo che la varianza della somma è la somma delle varianze, ma non finisce qui perché c'è più due volte la covarianza di x y. Cioè la varianza in generale non è additiva, come si dice. Questo si può verificare facilmente con qualche calcolo che non vi sto qui a riportare, lo potete guardare sul libro, non sono dei passaggi difficili. Quello che è importante è appunto che la varianza non è additiva ma ci vuole il termine correttivo. Questa formula può essere estesa anche a più di due numeri relatori, in particolare può essere estesa ad m numeri relatori, indichiamoli così. Allora vedete che ancora una volta abbiamo la somma delle varianze, la varianza della somma è la somma delle varianze, ma non finisce qui, più il termine, diciamo così, correttivo, due volte lì c'era la covarianza della coppia x y. Qui le coppie sono tante, quindi tutte le possibili covarianze a due a due scegliendo gli indici i1 e i2 da quelli disponibili. Adesso vediamo un altro concetto molto importante che è quello di coefficiente di correlazione. Il coefficiente di correlazione in certo senso è una covarianza normalizzata, nel senso che si prende la covarianza e si divide per il prodotto degli scarti standard. Vedete che con sigma x ho chiamato lo scarto standard, cioè la radice della varianza di x, e con sigma y lo scarto standard di y. Questa specie di covarianza normalizzata ha la proprietà che mentre la covarianza può assumere qualunque valore, positivo, negativo, nullo, senza nessuna limitazione per i valori possibili, il coefficiente di correlazione invece è quello che si chiama o meno come i fisici chiamerebbero un numero puro, nel senso che è compreso sempre tra meno 1 ed 1, c'ha questi due estremi. Questo per dimostrarlo si usa una concetta elementare da scuola liceale, nel senso che bisogna studiare un trinomio di secondo grado, il segno di questo trinomio, anche questo vi rimando al libro, ripeto qui non è il caso di mettersi qui a fare dei calcoli non particolarmente eccitanti, diciamo così, un po' noiosi ma interessanti, d'altra parte perché la proprietà che ne segue è interessante, quindi vi rimando al libro con un uso opportuno dei concetti che riguardano il segno di un trinomio di secondo caso dimostra che il coefficiente di correlazione è sempre compreso fra meno 1 ed 1 e i due casi limite, cioè meno 1 ed 1, che si possono rappresentare, esprimere in un modo solo dicendo che il quadrato di ρ è uguale ad 1, si hanno se e solo se fra x ed y c'è un legame funzionale lineare, cioè quando y è legato ad x da una relazione di questo tipo, bx è l'equazione di una retta in sostanza, bx più a con b diverso da 0 ovviamente per non avere il caso banale. Anche questo, quando ne avremo bisogno più in là, quando avremo da esaminare alcuni aspetti della statistica, ci tornerò in maniera un po' più approfondita, per ora accontentiamoci della notizia e ripeto, per la dimostrazione vi rimando al libro, ρ è uguale a 1, cioè i due casi estremi, se e solo se, non solo sono correlati come dice il nome, il coefficiente di correlazione, ma sono correlati così bene che addirittura c'è una relazione funzionale, in particolare lineare. Adesso volevo tornare, usando anche il concetto di previsione, alle varie concezioni della probabilità. Ricordate che qualunque siano il modo in cui interpretate la probabilità, io vi ho consigliato di vederlo sempre come visione generale, come semantica, una misura del grado di fiducia che avete nel verificarsi un evento, indipendentemente da quale sia il metodo con il quale calcolate la probabilità, in altri termini direi provocatoriamente calcolata come vi pare, volete calcolarla con una frequenza, volete calcolarla come rapporto tra casi favori e quasi possibile, volete inventarvela in base alla vostra esperienza, volete calcolarla come vedremo da domani in poi, dalla prossima lezione in poi, come una probabilità condizionata, in qualunque modo la calcolate, una probabilità deve rispettare queste regole sintattiche. Allora da qui si vede che se volete ritrovare il concetto combinatorio, cioè la probabilità come rapporto tra casi favori e casi possibili, vedete che viene subito da qui come collario, perché quel criterio si basava sulla equi probabilità dei casi possibili. Se sono equiprobabili, nel nostro significato, vuol dire che se io dovessi scommettere su quegli eventi, impegnerei su di essi la stessa somma, quindi c'è una interpretazione dell'equiprobabilità. Ma d'altra parte per la probabilità terza qui scritta, se sono equiprobabili e sono una partizione, ognuno essendo n20 deve avere probabilità un ennesimo, perché per dividere una torta in n parti uguali l'unica maniera è di dare un ennesimo, un ennesimo, un ennesimo. Quindi vedete che i singoli casi possibili hanno probabilità un ennesimo, se voi considerate l'evento fatto da r di questi, quelli che si chiamano i casi favorevoli, dovete sempre applicando questa proprietà terza sommarne r, quindi un ennesimo, più ennesimo, più ennesimo, r volte, e trovate il famoso r su n. Cioè casi favori di questi casi possibili è un mero caso particolare della visione generale di probabilità, in cui la probabilità deve rispettare queste regole sintattiche. Cioè una cosa, ripeto, è l'idea che misura il grado di fiducia, una cosa è il metodo di calcolo. L'altro metodo di calcolo molto famoso è quello della frequenza. Ora vediamo di dare una rapida, grazie al concetto di previsione, una rapida interpretazione e giustificazione del criterio frequentista per valutare una probabilità. Allora noi abbiamo una successione di eventi, se è frequenza deve essere una successione, cioè potenzialmente infinita, come si dice, no devo fare prove quante ne voglio, mi fermerò perché sono stanco, mi fermerò perché alla fine muoio, infinite non ne posso fare, quindi sarà un certo numero di prove che supponiamo anche i probabili. Però non conosciamo la probabilità. Noi supponiamo che le prove sono i più probabili, ma indichiamo con P questa probabilità che stiamo cercando. Supponiamo di aver osservato n prove. La frequenza, come abbiamo visto nella lezione sulla previsione della precedente, si può sempre scrivere come somma di indicatori, che sarebbe il numero dei successi, diviso n. Questa è la frequenza. Se voi la chiamate frequenza passata, cioè pensate ad averle già osservati, questa previsione, questo valore della frequenza è un certo numero h, no? Avete ottenuto, cioè h è il numero dei successi, avete il rapporto h su n, perché è un dato, no? Se poi parlate di frequenza futura, cioè prendete non le prime n prove, ma le successive, cioè da n più 1 fino a 2n, mantenendo lo stesso numero, raddoppiate come si dice, allora ci troviamo in presenza di due frequenze possibili. La frequenza passata che è quella osservata, la frequenza futura che è quella da osservare, osservanda. Ora, la previsione della frequenza, abbiamo studiato l'altra volta, che in ogni caso la previsione della frequenza è uguale alla probabilità, vedete? Previsione della frequenza è uguale a P, quando sono i più probabili. Probabilità che qui non conosciamo, però, eh? D'altra parte, questo lo possiamo dire per la frequenza futura, che è la previsione uguale alla probabilità della frequenza passata, l'abbiamo già osservato, ci è venuto h su n, abbiamo avuto h successi, quindi in base all'altro risultato, che la previsione della costante è la costante stessa, voi avete che la previsione passata della frequenza è h su n, cioè la frequenza stessa, la previsione futura è la probabilità. Se voi supponete che gruppi di prove diverse, cioè le prime n, le seconde n, cioè quelle di indice fino ad n e quelle da indice n più 1 a 2n, devono avere la stessa previsione, cioè supponiamo che il fenomeno si svolga nelle stesse condizioni, non può che implicare il confronto fra queste due uguaglianze che P deve essere uguale ad h su n. Quindi abbiamo un criterio rapido ed empirico per dare una forma di giustificazione alla valutazione della probabilità mediante la frequenza. Naturalmente avete già capito da questi commenti che ci sono delle ipotesi molto forti e vi rimando anche qui al sito internet dove avete discussioni più ampie e anche esempi della valutazione frequentista della probabilità, perché non sempre è legittima, non sempre è convincente, ma nei casi in cui le ipotesi che ci sono dietro per fare queste implicazioni sono giustificabili, naturalmente è legittimo farlo. Arrivederci. Grazie a tutti.